Stanno dietro la luce le viole, nascoste per non farsi vedere. Il bello non è ciò che si contempla, ma la ragione che si fa di questo, l'esamine graduato che è fermato in quel preciso istante quando rimani dentro l'ombra sua come le viole, le ammiri stando al chiaro e sono opache, non hanno più splendore, stavano avvolte dalla lucentezza quando nell'ombra torva della selva erano appena nate, in quel preciso istante. Adesso sono vive, sono belle, ma l'arte della luce è un'altra cosa che si riflette solo nel pensiero. Grazie. 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 Grazie.